Il primo giusto di luce Così la famosa giustizia della luce è finalmente arrivata. Devo deborre geli d'anima e rimettermi alla tua misericordia. Ti concederemo una morte rapida, Arthas. E' più di quanto abbiano avuto le migliaia che hai torturato e ucciso. Questo lo vedrai di persona. Quando avrò finito, mi implorerai di avere pietà. E io non te la concederò. Le tue grida d'ancoscia saranno la dimostrazione del mio potere illimitato. E sia... Campioni all'attacco! Ti terrò in vita per assistere alla fine. Non vorrei mai che il più grande campione della luce si perdesse lo spettacolo. Ma questo mondo generale costruito a mia ricostruzione. Finché di voi non resterà che un guscio ghiacciato. Nessuna domanda resta in sospeso. Non c'è alcun dubbio. Voi siete i più grandi campioni di Azeroth. Avete superato tutti gli ostacoli che ho posto sul vostro cammino. I miei servitori più potenti sono caduti davanti al vostro implacabile assalto. Alla vostra furia scatenata. E' davvero la rettitudine che vi spinge? Chissà... Li hai addestrati bene, Fortring. Hai portato la più grande squadra di combattenti di questo mondo direttamente nelle mie mani, proprio come desideravo. Voglio ricompensare il tuo inconsapevole sacrificio. Osservali, mentre li strappo alla morte, per fare di loro degli strumenti del flagello. Getteranno questo mondo nel caos e nella distruzione. Azeroth cadrà per mano loro. Tu... tu... sarai il primo... a morire. Che deliziosa ironia. Luce... Concedimi un'ultima benedizione. Dammi la forza... di infrangere questi legami. Impossibile. Basta così, Arthas. Nessun'altra vita sarà consumata dal tuo odio. Libero. Finalmente. E' finita, figlio mio. E' giunto il momento di regolare i conti. Risorgete, campioni della luce! Bye.